Se hai ricevuto problemi ad avviare God of War Ragnarok ovviamente questa guida non solo ti spiegherò come risolvere il problema all'avvio ma risolverà anche i problemi di crash se in questo caso provi ad avviarlo e giocare e se ricevi dei crash puoi risolvere tutto attraverso questi metodi. Ovviamente andremo così ad aggiornare la scheda grafica tutti i suoi driver più recenti e ovviamente faremo anche degli aggiornamenti anche sui driver di AMD. Tutto in descrizione ci sono i link che ti porteranno così sulla pagina di Nvidia App AMD Software Adrenaline Edition che è come Nvidia dove gestisci così la tua scheda grafica, aggiorni i driver e controlli anche la grafica dei giochi. La modifichi sempre su questi programmi qua oppure c'è il driver and support di AMD dove vai a cercare così i driver per la tua scheda grafica oppure il chipset o il processore. E poi abbiamo il web installer DirectX and User Runtime. Ovviamente non posso farti vedere come usare AMD Software Adrenaline perché mi dà un'installazione non sopportata perché non ho una scheda grafica AMD, non mi funziona questo programma. Quindi ti consiglio di scaricare e installare questo software per aggiornare sempre i driver di AMD. Per Nvidia invece scarichi così la versione beta di Nvidia App, la install quindi scarichi la beta, 700 MB pesa. Vai a scrivere Nvidia App, vai su driver e qui scarichi e installi così i driver per il tuo computer per non avere sempre problemi all'avvio dei giochi. Lo stesso vale anche per il DirectX di Web Installer. Andiamo così a scaricare questo software. Vai su Download, DirectX. Questi metodi funzionano sempre su moltissimi giochi quindi ti consiglio di usare sempre questi metodi. Accetta il contratto, fai avanti, non installare questo BingTube, fai avanti e installi così il software. Una volta fatto andiamo un attimo su gestione dispositivi, tasto destro su Start, gestione dispositivi. Scendi fino a giù fino a trovare le tue schede video. Aggiorna driver, cerca i driver, scegli da un link o i driver disponibili. Metti il primo driver che ti consiglia così il sistema, fai avanti e installi così il tuo driver. Se non dovesse funzionare andiamo direttamente su Impostazioni grafica, quindi vai a scrivere qua sopra Grafica. Impostazioni grafica, sfoglia e andiamo così a inserire il nostro God of War. Ovviamente devi entrare nella cartella del gioco e trovare God of War Ragnarok.exe e lo aggiungi qua. Scegli così la scheda video da usare sul gioco, opzioni, prestazioni, elevate e fai salva. Se non dovesse funzionare, prova così ad andare su AppData, quindi scrivi qua sopra Esegui. Qui vai a scrivere %AppData% Percento, %AppData%, entri così nella cartella di AppData, AppData, Local, scendi fino a giù, fino a trovare la cartella di God of War Ragnarok. Ovviamente l'ho cancellata perché vai a ripristinare così la cartella del gioco, quindi cancella la cartella di God of War, la cancelli, più di qua e apri il gioco. Se non dovesse funzionare, prova a installare gli ultimi aggiornamenti sul tuo sistema, quindi Windows Update, verifica disponibilità aggiornamenti. Verifichiamo la disponibilità degli aggiornamenti. L'ultimo aggiornamento che ho scaricato e installato, installazione riuscita del 15 di settembre. Non ci sono nessuno aggiornamenti da fare. E chiudo qua. Ovviamente ti ho lasciato tutto in descrizione, mi raccomando, scarica, aggiorna sempre i driver della tua scheda grafica. Se invece vuoi provare ad avviare il gioco con i vecchi driver di Nvidia, c'è sempre il link in descrizione. Old driver Nvidia Scarica driver ufficiale di Nvidia Qui sopra puoi trovare tutti i driver di Nvidia Gli ultimi, quindi i più recenti e poi quelli di tanti mesi fa che risale a febbraio 2024 Puoi usare uno di questi driver vecchi e provare ad avviare il gioco su questa pagina di Nvidia Quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial Ciao 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 Ciao